Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi pesciatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel Vincinio ora e sempre, tu sei benedetta fra le donne e 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 benedetta fra le donne Gli arboroi bitande e benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta fra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.